salve a tutti i ragazzi sono god time e mi sono accorto che nei due episodi precedenti non si sentiva la mia voce allora perché me ne sono accorto proprio adesso allora come vedete ho già fatto a casa perché non volevo veresti che ho scocciato e vi esso poi non ho usato too many items comunque allora cosa volevo dirvi ah nelle piccate precedenti non si sentiva la mia voce perché uno perché ma riesco a parlare ce la faccio ragazzi ce la faccio uno perché non avevo il microfono e me lo sono comprato ieri adesso quindi il microfono quindi scrivetemi i miei commenti se si sente o no ok ok quindi ho saluto tutti ah nell'episodio dove come avete visto la mia prima morte eh maledetto a quel creeper io so avete capito cosa che li odio vabbè vabbè cominciamo allora cosa volevo fare oggi troviamo delle mucche e un po' di carne e di zucchero che credo si trovino facilmente dai cioè no no perché un po' di carne e di zucchero che credo si trovino facilmente dai c'è no no perché un po' di carne e di zucchero che vuoi trovare qualcosa non lo trovo mai ma non avevo tolto l'amor di bianco ma si perché il mondo vabbè ragazzi ecco l'amor di cazzo mi hai fatta bene comunque ho tolto l'amor di villaggi però visto che il mondo è già fatto i villaggi ci sono ancora vabbè non fa niente perché non mi andava di avere sempre i villaggi per i piedi perché ho paura che li spawnino nella mia casa ecco ecco beh insomma dai perché non è così ah si perché ogni volta che vado avanti devo sempre creare il mondo ragazzi quindi andate la vera uh ahia questi mi servono allora a cosa mi servono i funghi? facilissimo i funghi mi servono per fare avete preso anche la zuppa che non so mai come si chiama perché non la uso mai oggi ho deciso di farlo comunque guardare quanto siamo fortunati nemmeno una canna nemmeno una oh oh frello no fermo fermo che cazzo no ok ciao no ok via qui 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 ragazzi le vedi ne dai mona tutto questo lardo per ora 4 ok ragazzi metto in pausa i video perchè non arrivo perchè è sporciante eccoci arrivati ragazzi notiamo dentro notiamo dentro no 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 eh prese due aspetta che e ne diamto un po' perchè sto blocco l'avevo piantato io lo diamiamo non lo importa ok ok cosa ci serve ancora beh ora ci serve vabbè intanto facciamo il libro intanto il libro non lo posso fare ma allora com'è che sto facendo? così ok eccola 1.4.2 vedete non mi riesce più il libro mi serve la pelle per questo cercavo le mucche vabbè vabbè i creeper eccole ecco 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 aiutano all'improvviso e fan mac il costo vi l'ho generato a cazzo che non serve a nulla non sai dai che fai se è buco cazzo 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 vabbè basta non li fiamme perché adesso non mi va perché devo andare in cerca di cazzo vabbè cazzo cazzo non c'è non c'è certo di queste belle bocchie ma se non ricordo mai dovrebbero ma quello non l'ho ancora mangiato ma che cosa è vero? quest'episodio è che sta così non c'è non mi servono i maiali andatene via salta oh non ho trovato una mucca una mucca aia la ce l'avamo non mi avvicinavo perché questo è l'acqua di scuola di cederci dentro niente proprio ragazzi niente mancuna mucca mi dà sento slime oh e darmi da queste mucche le cazzo che palle non vi voglio via maiali tu cazzo non mi avvicinavo non mi avvicinavo lì sempre mai guarda mo se trovo una moto non mi troppa la pelle vedi vabbè non credo stia da solo vabbè a cioccoli dell'allucinazione dei maiali vi levate da cazzo non mi fotte una minchia di voi e che cazzo mi sono bucato pure quanto odio la giungla quanto la gara non ce la fai? vabbè ragazzi vabbè non mi stopa finchè non trovo le mucche ecco trovate le mucche ragazzi finalmente ora è una cosa facile da trovare eh si prezze le masette perchè al marzo ritorno cioè non troppo lontano vediamo fa tutto il giro mi sono ritrovato mi sono ritrovato nella mia casetta penso è andato un po' più lontano 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 che emozione anche quella lontano ok ritorniamo a casa ehm è vero? ma io dai sono coglioni ho detto manco lo spa manco il coso di arraise me night ma dai manco di no waypoint tanto suono difficilemente non 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 Grazie a tutti.